SALUS A 2 SETTEMBRE 2011 Carissimi, che meraviglia vedere la grande luce sorta dal desiderio di aiutare un vostro compagno di viaggio, in un momento di bisogno. Naturalmente, mi riferisco a Michael, profondamente commosso dalla vostra generosità, che gli ha permesso di superare rapidamente un problema con il suo computer. Accade spesso, infatti, che l'amore più sentito venga a gala quando uno di voi deve affrontare un contrattempo si manifesta allora un movimento di sostegno, che trascende le eventuali differenze, che avrebbero potuto far sorgere tra voi delle barriere. Siate certi, che in tali occasioni, il vostro livello di coscienza si innalza e il suo effetto è di larga portata. In questo momento si stanno svegliando molte persone, che per tutta la vita avevano sonnecchiato, senza mai chiedersi quale fosse lo scopo della loro presenza sulla Terra. Per costoro sarà un periodo di prova, perché la verità in tutta la sua bellezza rappresenterà un vero shock, quando si presenterà per sostituire credenze a lungo intrattenute. Normalmente, il risveglio e l'elevazione dovrebbero avvenire in modo graduale, ma adesso il tempo non è più dalla vostra parte e sta passando più veloce che mai. A un livello superiore di coscienza, siete in grado di esprimervi molto spontaneamente e di vivere la vostra luce. Ciò significa che siete già fermamente avviati sul sentiero dell'ascensione, e che state progredendo verso l'auspicato livello dell'amore incondizionato. Questa è la meta, che avete perseguito da eoni di tempo e, mentre vi avvicinate al traguardo, da molte parti vi è offerto un immenso aiuto. Per tal motivo, ogni anima è spronata a spezzare la rigida corazza di convinzioni, che finora le ha impedito di progredire. Comunque sia, se qualcuna sceglie di rimanere nelle basse vibrazioni, forse è perché non è ancora pronta ad afferrare il salvagente offertole. Benché siate tutti uno, vi ritrovate insieme dopo aver seguito percorsi molto diversi e, di conseguenza, non necessariamente arriverete a destinazione contemporaneamente. Comunque, le esperienze vissute vi saranno utili e, a un dato momento, ne sarete influenzati e i progressi saranno inevitabili. È stato osservato con molto piacere, che i livelli di coscienza di massa sono cospicuamente aumentati, mostrando in tal modo, che vi state liberando dalle energie inferiori, alimentate dalle azioni degli oscuri. Questi ultimi non sono più in grado di esercitare la loro forte influenza del passato che, di fatto, si sta rapidamente indebolendo. Siate certi, che essi sanno bene quel che il futuro loro riserva e che, in nessun modo, possono impedire l'avvento finale dell'ascensione. Infatti, dal nostro ultimo messaggio, i nostri piani sono ancor più vicini al buon esito e i nostri alleati stanno per mettere gli oscuri alle corde. Ci aspettiamo, pertanto, un esito favorevole, che ci consentirà di procedere a tutta velocità con le prime mosse, che porteranno ai cambiamenti necessari per avanzare. Da qualche tempo, abbiamo contattato i vostri governanti mondiali allo scopo di ottenere il loro appoggio per i cambiamenti, che desideriamo introdurre. Non ci sono altre scelte, nella possibilità di riesumare i vecchi sistemi, che ormai appartengono al passato, per doloroso, che sia per le persone tuttora impreparate, dovete assolutamente andare avanti. Molta gente deve ancora essere informata di cosa veramente riserva il futuro e sarebbe felice di apprenderlo. Ovviamente, gli oscuri hanno fatto del loro meglio per nascondervi la verità, ma è una battaglia persa perché la verità emergerà a prescindere dai loro tentativi. Le città di luce, di cui ora state cominciando a essere consapevoli, saranno un valido esempio di come sono le dimensioni superiori, anche se somigliano più ai centri di guarigione, specialmente preparati per aiutarvi ad elevare il vostro grado di coscienza. Prenderite, allora, la corsia veloce, che vi consentirà di eliminare ogni residuo della dimensione presente, che vi ha mantenuto prigionieri al suo interno. Sappiate che le energie inferiori non possono sussistere al di sopra del determinato livello, che siete destinati a raggiungere. Tra i nostri numerosi compiti c'è anche quello di garantire che lo raggiungerete, e presto non avrete alcun dubbio in merito. Vi lasciamo inviandovi amore e benedizioni affinché la vostra esperienza sia appassionante e soddisfacente. Grazie, Salusa. Mike Quincy Traduzione Costanza 2003